senza farti notare bravo 5 su 5 shariart grazie per il prime come mai catturi tutti i pokemon perché devo mi faccio vedere porco dio sto creando il pokédex vedete e quindi più ne cattu vedi che ci sono delle missioni grazie leo guarda siamo andati poco avanti con la storia dobbiamo fare la storia principale adesso vedi che per ogni esemplari catturati 1,3,6,12,25 esemplari di piccola taglia 1,2,5,7,10 cioè devi catturarne tanti capito per completare tutto e anche qua ne abbiamo catturati 5 senza farci beccare dobbiamo catturarne 20 senza farci beccare 25 normalmente leggeri ne dobbiamo beccare 10 sconfiggerli vedi è così che funziona sto gioco bisogna farmare grindare leccare fighe finché non si inondano come gesù capito facile più ne catturi della stessa specie più probabilità ci sono che lo trovi shiny questa è una cagata o è vero lec c'è ci sono le chain testamente la camera leggermente più no ok c'è ci sono le cose più importanti ben 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 ancora